Il feeling è che inizia un campionato, il feeling è di sempre pensamenti positivi per iniziare nella migliore maniera possibile il campionato. Sappiamo che il campionato è lunghissimo, quindi di iniziare bene. Sappiamo che i punti sono sempre molto importanti, quindi pensare sempre a fare il più grande numero di punti all'inizio. Abbiamo due gare di file, poi abbiamo settimane però altre gare di file. È un campionato lungo, però ci sono gare quando c'è una dopo l'altra. È sempre importante pensare a fare le due gare il miglior possibile, perché perdere due risultati così sono tanti punti alla fine. Quindi è vero che nelle prove non siamo stati la macchina più veloci, però stiamo lavorando tantissimo per sviluppare la macchina e avere l'occasione e la possibilità di lottare anche podio e vittoria, che questo è l'obiettivo sempre numero uno della Ferrari. Ma sicuramente le regole sono cambiate tante, no? Quindi le macchine hanno meno carico, perché prima c'erano gli scarichi che buttavano tanti tanti carico nel posteriore della macchina, quindi nel posteriore c'è sicuramente meno downforce di quello che c'era l'anno scorso. Quindi questo è il punto più importante di sviluppare tutto il downforce della macchina per tornare a essere vicino a quello che era la fine dell'anno scorso. Ma sicuramente quando è una macchina un po' più difficile da guidare, nel senso che abbiamo perso tanto downforce dell'anno scorso, quindi tu devi guidare un po' più tenendo sempre un po' di più il posteriore della macchina. Questo anche pensando alle gomme, cioè per non distruggere così velocemente le gomme anche, quindi deve guidare molto più delicato la macchina da quello che era l'anno scorso. Secondo me sì, secondo me facciamo tante gare e abbiamo pochi test, test è sicuramente importante per lo sviluppo della macchina perché quando tu lavori solo in fabbrica e porti dei pezzi nuovi non vedrai mai nella pista, quindi devi usare venerdì di una settimana della gara per vedere tante cose nuove e perdi anche dei pochi test che abbiamo venerdì del weekend di gara perché devi provare tante cose, quindi hai meno tempo di lavorare sul setup della macchina per esempio. Certo che gare sono sempre più divertenti per un pilota, tu sei lì in competizione con gli altri, quindi è molto più piacevole fare gare che fare test, però pensando nello sviluppo della macchina sarebbe interessante fare qualche test in più, ma abbiamo i più incredibili tifosi di tutte le squadre in Formula 1, quindi è vero che non abbiamo avuto delle settimane di prove così fantastiche come ci aspettavamo, però tifosi dobbiamo sempre tifare al 100% perché noi siamo qui a lavorare più di 100% per voi e quindi è difficile promettere qualcosa perché non siamo dove vogliamo in questo momento, però la voglia è di arrivare più velocemente possibile dove vogliamo, che è fare le vittorie, tante vittorie e lottare per il campionato, è tutta la voglia che io come pilota e anche la Ferrari come squadra abbiamo per voi.